Ciao a tutti, questa meditazione serve per riequilibrare e calibrare Triciaka con le nuove energie cosmiche dell'evoluzione in atto dentro di te ed intorno a te, in compagnia dell'Arcangelo Mediatron. Adesso, tutto quello che devi fare è metterti in una posizione comoda e rilassante. Adesso che sei in una posizione comoda e rilassante, non devi fare altro che inspirare profondamente con calma ed espirare con tranquillità e chiudere gli occhi. Inspira profondamente con calma ed espira con tranquillità. E rilassati, rilassati, lasciati andare e rilassati. Adesso, ad ogni ispirazione profonda ed espirazione che tu parrai, andrai consapevolmente, sempre di più, in uno stato profondo di rilassamento. Magico, straordinario, di pace, di quiete e di beatitudine, conosciuto come stato teta. quella condizione meravigliosa e magica che ti commette armoniosamente con il Padre Cielo e la Madre Terra. Dove adesso, ad ogni ispirazione ed espirazione, il tuo cuore si sta aprendo come un fiore di lotto, con i sui pettale meravigliosi, rivolto verso un cielo infinito. Quel cielo infinito, conosciuto come l'Universo. Lo specchio dell'Universo invisibile dentro di te. Un Universo magico, illimitato di infinite possibilità. Quell'Universo, conosciuto da tempi memori, com'è l'Anima. La somma manifestativa dall'invisibile al visibile della volontà della tua coscienza divina. L'amore incondizionato. L'amore per te stesso, che si riflette dal tuo cuore in tutte le direzioni dello spazio, tempo, cospico ed oltre. Questa luce meravigliosa, bianco puro, che in questo preciso istante si sta manifestando nel centro del tuo cuore, il tempio della tua coscienza, il tempio della creazione divina. Lo vedi come una stella nascente, una stella speciale, una stella eterna. La prima stella della creazione, l'atomo genitore, che sta iragiando la sua luce bianca, pura amore candida dal centro del tuo cuore, diffondendosi in tutte le parti del tuo cuore. Andando oltre il tuo cuore, diffondendosi in tutto il tuo corpo. questa luce bianca di puro amore, in costante espansione, che si diffonde in tutto il tuo corpo, dal centro del tuo cuore, dove tu percepisci l'espansione di questa luce meravigliosa, come ondate pure di calore, che provengono dal centro del tuo cuore, diffondendosi in tutto il tuo corpo ed oltre. Andate di calore che ti dà la sensazione rilassante di essere immerso in un oceano infinito di acqua calda, ma di pura luce, una luce che non ha né inizio né fine, intorno a te, ovunque e dovunque, sprigionato dal tempio della creazione, sprigionato dal tuo cuore. E' la tua luce divina e il tuo sé autentico, al di là dello spazio e di tempo, al di là di tutte le dimensioni. benvenuto a casa tua, figlio delle stelle, anima di luce. Benvenuto in te stesso, la tua luce, l'amore per te stesso, l'amore incondizionato. benvenuto nel luogo divino della creazione. Adesso lasciati andare sempre di più, affidati a questa perfezione assoluta che sei tu, perciò affidati a te stesso. e lasciati consumare da questa luce. Diventi questa luce. Sii semplicemente te stesso e vivi questo momento tuo di silenzio divino, il silenzio di questo luogo. percepisci l'amore di questo luogo, l'amore incondizionato. Attraverso il tuo silenzio percepisci il tuo sé autentico. E adesso ripeti questa frase. questa frase meravigliosa, questa frase magica, per farti comprendere chi sei, per comprendi la tua vera natura divina. ripeti, noi siamo amore. noi siamo un tutt'uno dell'amore. noi siamo un tutt'uno dell'amore incondizionato. io sono l'amore. io sono un tutt'uno dell'amore incondizionato. dell'amore incondizionato. dell'amore incondizionato. e con l'amore incondizionato. io sono. io posso. io credo. io credo. io credo. io credo. e adesso inspira profondamente. trattieni momentaneamente il respiro. ed espira con un bel... e all'improvviso, per magia, appare intorno a te un vortice di luce ultravioletta meravigliosa e verde smeraldo. è la presenza dell'arcangelo Metatron. la sua luce e la sua presenza sta vorticando intorno a te finché non si ferma davanti a te. come una nube di luce fluttuante ultravioletta e verde smeraldo che si plasma per assumere le sue sembianze sotto forma di un arcangelo alto e imponente con due ali meravigliose, bianche e dorate. l'arcangelo Metatron ti guarda e ti sorride silenziosamente. attraverso il suo sguardo così penetrante riesce a vedere tutto l'universo dalle infinite possibilità. mondi, stelle, galassie, un numero infinito di galassie. e che l'arcangelo Metatron attraverso il suo sguardo sta mostrando la grandezza della tua opera divina. la vera grandezza, bellezza e l'eleganza infinita della tua anima dall'invisibile dentro di te al visibile intorno a te. e sorridendoti in silenzio sta portando le sue mani all'altezza del petto e apre il suo vestito rivelando il suo cuore, il cuore universale del cosmo, il cuore della tua anima, il tuo cuore cosmico. quel cuore ovunque dovunque, dall'infinitamente più piccolo, dall'infinitamente più grande. è l'atomo genitore, il cuore del principio. lo vedi come un cristallo a sei lati che ruota, ruota dolcemente in senso orario. sta emanando diversi colori come un caledoscopio di colori che somiglia alla luce dell'arcobaleno che si raggia in ogni direzione verso l'infinito. ti senti attratto all'interno di questo cuore e l'arcangelo metatrono con un soffio gentile sol di te ti fa sentire leggera magicamente leggera come la piuma dell'animo di un angelo. ti senti sollevato dal suo soffio e questo soffio ti sta trasportando magicamente all'interno del suo cuore il cuore cosmico il cuore della tua anima il ricongiungimento con l'atomo genitore l'atomo del principio e all'improvviso magicamente ti trovi nel centro di questo cristallo meraviglioso con tutti questi colori fluttuanti che ruotano lentamente intorno a te in senso orario. Adesso stai per entrare nella fase della riattivazione il riequilibrio l'armonizzazione chakra con tutto il cosmo di questa nuova era evolutiva. Il cristallo sta incominciando a ruoteare intorno a te aumentando la sua velocità e la velocità aumenta sempre di più sempre di più sempre di più sempre di più finché non vedi tutti questi colori meravigliosi che si amalgamano insieme per diventare un colore unico ritornando allo stuttato puro di amore incondizionato la luce bianca. all'improvviso la luce bianca assume un colore unico all'improvviso sei circondato magicamente dalla luce rossa intensa rubino e l'energia necessaria per il risveglio e la guarigione e la ricalibratura all'armonizzazione del tuo primo chakra verso la nuova era cosmica evolutiva perciò inspira profondamente con tutto te stesso questa energia meravigliosa di luce rossa assorbila con tutto te stesso si trattiene e respira ed espira con un bel ahhh all'improvviso magicamente la luce rossa generata dal cuore cosmico dell'arcangelo metatronico il cuore dell'anima e il cuore dell'universo l'atomo, genitore diventa luce arancione intenso l'energia necessaria per risvegliare e guarire ricalibrare ed armonizzare la tua seconda chakra sull'energia di questa nuova era cosmica evolutiva perciò inspira profondamente questa luce arancione con tutto te stesso assorbilo con tutto te stesso trattieni il respiro ed espira con un bel ahhh e questa luce arancione intenso diventa luce gialla l'energia necessaria per il risveglio e la guarigione e la ricalibratura da armonizzazione con il terzo chakra con la nuova energia evolutiva cosmica in atto dentro di te e in tutto l'universo perciò inspira profondamente e assorbi questa energia meravigliosa di luce gialla trattienilo dentro di te ed espira con un bel ahhh e all'improvviso la luce gialla si trasforma in luce verde esmerata l'energia necessaria l'energia necessaria per il risveglio e la guarigione la ricalibratura da armonizzazione del chakra del cuore nell'energia cosmica di questa nuova era evolutiva in atto dentro di te e solo di te e intorno a te perciò inspira profondamente e assorbi questa luce verde esmeralda con tutto te stesso trattienilo ed espira con un bel ahhh e la luce verde esmeralda si trasforma magicamente in una luce blu oceano il chakra della gola l'energia necessaria per risvegliare e guarire il chakra della gola per sintonizzarlo ricalibrarlo ed armonizzarlo sull'energia cosmica di questa nuova era evolutiva perciò inspira profondamente assorbi questa luce blu oceano con tutto te stesso trattienilo ed espira con un bel ahhh e la luce blu oceano si trasforma magicamente nella luce viola il terzo occhio l'energia necessaria per la riattivazione la ricalibratura la guarigione della ghiandola pineale armonizzandolo sull'energia cosmica di questa nuova era evolutiva in alto solo di te intorno a te e dentro di te perciò inspira profondamente questa luce viola assorbila con tutto te stesso trattienilo ed espira con un bel ahhh e questa luce viola si trasforma nella luce fluttuante dorato e argentato intorno a te che vortica intorno a te la luce dorata è l'energia maschile dell'universo la coscienza cosmica cristica e la luce argentata invece è l'energia femminile dell'universo la coscienza cosmica della Maria Magdalena rappresenta l'apertura del chakra della corona perciò inspira profondamente questa luce meravigliosa dorato e argentato assorbila con tutto te stesso trattienilo ed espira con un bel ahhh così facendo adesso sei completamente aperto ed allineato con l'energia cosmica della nuova era è aperto per ricevere costantemente i doni dell'universo attraverso il tuo campo aurico adesso la luce dorata e argentato fluttuante si trasforma magicamente nella luce bianca la coscienza pura l'amore incondizionato il tuo essere autentico che adesso ti riporterà nel qui e ora nel tuo spazio tempo dimensionale umano la luce bianca la luce bianca adesso lentamente si affiorisce come la nebbia e lentamente con piano e con calma rivela la stanza dovebbe inizio questo viaggio meraviglioso per riconnetterti armoniosamente attraverso la ricalibratura la risintonizzazione e la guarigione e la guarigione di tui trincio e tui chakra con l'energia cosmica ed armoniosa di questa nuova era evolutiva conosciuto come rinascimento galantico sei nel flusso sei un'anima rinata e sei nel qui e ora intorno a te la tua stanza percepisci la solidità del tuo corpo i tuoi piedi perfettamente piantati sul pavimento percepisci il calore del cuore di Gaia che sale attraverso il pavimento percepisci il calore sotto la pianta dei tuoi piedi che sale dolcemente in modo vorticoso attraverso le tue gambe per diffondersi in tutto il tuo corpo per ancorarti nel cui ora in questa tua vita meravigliosa lunga sala dei fetici adesso io conterò da 1 al 3 e al mio 3 inspirai profondamente con calma ed espirai con un bel e aprirai gli occhi con un bel sorriso sul volto affacciato verso una nuova era di infinite possibilità perciò uno inspira profondamente ed espira muovi le dita delle mani muovi i piedi esistiracchi a ogni singolo muscolo di questo tuo corpo meraviglioso un dono prezioso che permette alla tua coscienza di manifestarsi attraverso l'anima nel cui è ora per vivere una vita lunga sana e felice 2 inspira profondamente ed espira che sei nel cui è ora e 3 inspira profondamente ed espira con un bel ahhh e ben tornato nel cui è ora puoi aprire gli occhi con un bel sorriso sul volto e poi darti una bella pacca sulla spalla per dire a te stesso bravo sei stato molto in gamba perché anche lei Dio ogni tanto vuole il suo accontentino ciao e arrivederci per adesso e ci vedremo presto nei tuoi sogni sognando l'universo sognando te stesso sognando la tua vera grandezza la tua vera bellezza e l'eleganza infinite sognando l'anima l'anima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.